Il chimico tedesco Alex Frederick a Napoli, uno dei massimi esperti mondiali di qualità dell'aria, tra i fondatori dell'International Council on Clean Transportation nel 2001 e consulente della Banca Mondiale, arrivato nel capoluogo campano qualche giorno fa per la terza volta nella sua lunga carriera. Frederick si è impegnato nella misurazione della percentuale di emissioni inquinanti delle navi all'interno del porto di Napoli, in modo particolare nel punto passeggeri del molo Beverello. Il tedesco è poi intervenuto in una seduta della Commissione Salute Ambiente del Comune. Secondo quanto emerge dai dati del noto esperto tedesco, la concentrazione di ossido e biossido di azoto nel porto di Napoli ha raggiunto livelli preoccupanti, la più alta mai registrata durante tutti i suoi viaggi. Anna Gerometta dell'Associazione Cittadini per l'Area di Milano, collaboratrice di Alex Frederick in Italia, ha chiesto al Comune di Napoli di poter avviare una interlocuzione con l'autorità portuale. Per introdurre uno specifico modello di tassazione studiato da Frederick è indirizzato alle navi che inquinano in modo pericoloso e oltre ogni limite consentito. Ai nostri microfoni Alex Frederick e Mario Fontana del Comitato Vivibilità Napoli che ha partecipato all'incontro. Ho misurato lunedì delle concentrazioni elevatissime di biossido di azoto e anche di black carbon e anche di particolato ultrafine che oltre a danneggiare molto gravemente la salute umana deteriorano le case, quindi i beni pubblici e la natura. L'inquinamento legato alla presenza di queste grandi navi ma anche e soprattutto al trasporto locale quello fatto dagli aliscafi e quello fatto dai catamarani, insomma che sono più delle volte obsoleti con vecchie motorizzazioni, ha dato delle indicazioni effettivamente abbastanza sconfortanti sugli inquinanti che sono stati rilevati all'interno del porto.